Buongiorno a tutti. In questo video vi propongo un altro quesito sui numeri interi tratto dal test di ammissione alla scuola normale del 1974. Allora, vediamo nei dettagli il testo del quesito. Dimostrare che le soluzioni intere positive dell'equazione x più y più z uguale x per y per z sono numeri distinti. Dimostrare che l'unica soluzione è costituita dalla terna 1, 2, 3. Beh, chiaramente questa terna è soluzione, come si può facilmente verificare. Attenzione che la richiesta è dimostrare ben due fatti, prima che le soluzioni sono numeri distinti e poi che l'unica terna è proprio la terna 1, 2, 3. Allora, sto chiaramente per darvi la soluzione, quindi se volete pensarci questo è il momento di mettere in pausa il video. Allora, vediamo la dimostrazione della prima parte, cioè del fatto che le soluzioni intere positive sono numeri distinti, cioè diversi tra loro. Allora, procediamo in questo modo. Supponiamo che invece ci siano due numeri uguali tra loro. Attenzione, il problema è simmetrico rispetto alle tre variabili, quindi supponiamo x, ad esempio, x uguale y, ma supporre una qualsiasi altra uguaglianza avrebbe esattamente lo stesso ruolo. Allora, supponendo x uguale y, andando a sostituire nell'equazione, vediamo cosa succede. L'equazione diventa x più x più z uguale x per x per z, ossia 2x più z uguale x al quadrato per z. Allora, mettendo questa equazione in una forma normale, si può vedere che potrebbe essere pensata come equazione quadratica nella variabile x. Allora, pensandola in questo modo, possiamo calcolare la quantità delta quarti relativa a questa equazione quadratica e vediamo che questa quantità viene a essere uguale a 1 più z al quadrato. Allora, affinché chiaramente ci sia speranza che le soluzioni siano intere, il delta quarti dovrà essere una quantità quadrato perfetto. Ma sappiamo, è abbastanza semplice, convincersi che la quantità 1 più z al quadrato è un quadrato perfetto soltanto se z è uguale a 0, mentre negli altri casi ovviamente sarebbe il successivo di un quadrato che non è mai un quadrato. Ma z uguale a 0 non è accettabile perché qui stiamo cercando le soluzioni intere positive di questa equazione. Quindi sostanzialmente da aver supposto che x è uguale a y, cioè che ci siano due numeri uguali in questa terna soluzione, è derivato all'impossibilità di trovare una soluzione intera. Quindi dobbiamo concludere necessariamente che x è diverso da y, quindi che non ci possono essere due numeri uguali all'interno di questa terna soluzione. E questo conclude la prima parte della dimostrazione. Vediamo adesso la seconda parte. Allora, la seconda parte è dimostrare che l'unica soluzione è costituita dalla terna 1, 2, 3. Allora, che questa sia una soluzione, l'abbiamo già visto, è abbastanza semplice verificarlo, ma che sia l'unica, occorre appunto dimostrarlo. Allora, vediamo in che modo possiamo ragionare su questa seconda richiesta. Allora, intanto per quanto abbiamo dimostrato al punto 1, possiamo supporre, sempre senza perdere di generalità, che x sia minore, strettamente minore di y, che a sua volta sia strettamente minore di z. Questo perché sappiamo che la terna deve avere tre numeri distinti. Allora, se vale questa diseguaglianza, possiamo scrivere che la somma di x più y più z è sicuramente strettamente minore della somma di z più z più z, perché sostituiamo al posto di x e y al secondo membro due volte z, che sappiamo per ipotesi essere strettamente maggiore sia di x che di y. Beh, questa chiaramente possiamo riscriverla come x più y più z è minore sicuramente di tre volte z. Ma, sapendo che la somma di x, y e z è uguale al loro prodotto, questa diseguaglianza possiamo riscriverla sempre in maniera equivalente come x per y per z minore di tre z. Beh, a questo punto, dato che sappiamo che z è una quantità positiva, possiamo dividere per z e ottenere questa importante conclusione, cioè che una soluzione di questa equazione sicuramente è tale per cui il prodotto tra x e y deve essere strettamente minore di tre. Allora, per ottenere un prodotto minore di tre con due numeri che sono sicuramente interi, sicuramente positivi e sicuramente distinti tra loro e il primo deve essere minore del secondo, beh, l'unica possibilità, e abbastanza facile convincersi, è che x sia uguale a uno e y sia uguale a due. Ovviamente adesso a questo punto, sostituendo al posto di x e y uno e due, otteniamo che tre più z deve essere uguale a due z, da cui deduciamo che z deve essere necessariamente uguale a tre. Questo sostanzialmente conclude la seconda parte della dimostrazione, cioè abbiamo dimostrato che l'unica terna possibile è x uguale a uno, y uguale a due, z uguale a tre, chiaramente nel caso in cui ci sia questa diseguaglianza. Poi, tutte le altre permutazioni, dato che il problema è simmetrico, tutte le altre permutazioni di questi tre valori saranno chiaramente soluzione dello stesso problema. Beh, vi ringrazio per l'attenzione, come al solito vi lascio con una citazione da un grandissimo matematico, David Hilbert, che recita in questo modo L'arte del fare matematica consiste nel trovare il caso speciale che contiene tutti i germi di generalità. Come al solito, se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare dei commenti, eventualmente se avete altre soluzioni, altre dimostrazioni a questo quesito saranno chiaramente molto interessanti da analizzare. Vi ringrazio.